Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. A volte, il sistema che dovrebbe proteggere i più vulnerabili fallisce tragicamente. Le segnalazioni di abusi vengono ignorate, le opportunità di intervento vengono mancate e quando le conseguenze si rivelano irreversibili, non resta altro che cercare giustizia. Gli abusi possono assumere molte forme, dal controllo psicologico alle punizioni fisiche, insinuandosi nella vita quotidiana fino a diventare parte di una routine devastante. Questi comportamenti abusanti, spesso sottovalutati o non riconosciuti, contribuiscono a un ciclo di violenza che può sfociare in tragedie irreparabili, come nel caso che vi racconterò oggi. Corey Micciolo nasce il primo maggio 2014 nel New Jersey. Sua madre, Brianna, ha 17 anni ed è una studentessa al terzo anno di liceo. È rimasta incinta a soli 16 anni di un uomo di nome Christopher Gregor, che di anni ne ha 22. All'inizio Brianna non dice a Christopher di essere in dolce attesa e cresce Corey con l'aiuto della sua famiglia, in particolare di sua madre Rebecca, fino a quando il piccolo compie 5 anni. Corey è un bambino dolce, gentile e divertente, che ama tantissimo leggere, disegnare e dipingere. Adora gli animali e trova interessanti i pianeti, le stelle e il sole. In pratica è affascinato dall'intero sistema solare. Come tanti bambini ama passare il tempo giocando ai videogiochi, ma non disdegna neanche le attività all'aria aperta, soprattutto le uscite al parco, che adora. Ha anche un forte interesse per lo sport, in particolare il calcio, ed è entusiasta perché recentemente ha iniziato i suoi primi allenamenti ufficiali con la squadra al completo. I primi due anni della sua vita trascorrono serenamente, ma crescendo e iniziando a frequentare l'asilo e a stare con gli altri bambini, Corey comincia a rendersi conto che le altre famiglie sono diverse dalla sua. Questo lo porta a fare diverse domande, come Perché non ho un papà? Perché il mio papà non mi viene a prendere a scuola? A questo punto la nonna di Corey, Rebecca, suggerisce a sua figlia Brianna di far incontrare Corey e suo padre, convinta che il bambino abbia il diritto di conoscerlo. Inizialmente Brianna non è particolarmente entusiasta all'idea di coinvolgere Christopher. I due non avevano una relazione seria e quindi non vede la necessità di coinvolgerlo nella quotidianità sua e di suo figlio. Parlando con sua mamma, però, si rende conto che potrebbe essere positivo per Corey avere una figura paterna, a patto che Christopher si dimostri disposto a impegnarsi. Potrebbe rivelarsi un aiuto importante anche per Brianna stessa, che, ancora così giovane, sta crescendo un figlio da sola. Sia Brianna che sua madre Rebecca decidono quindi che vale la pena di fare questo passo. Viene eseguito un test di paternità su Christopher per stabilire con certezza se fosse realmente il padre del bambino. E il risultato è positivo. Christopher è il papà biologico di Corey. Nonostante non avesse saputo subito della sua paternità, Christopher inizia immediatamente a preoccuparsi di provvedere ai pagamenti per il mantenimento. Ciò nonostante, attende circa un anno prima di incontrare Corey di persona. Quindi, Corey incontra il padre per la prima volta all'età di 5 anni. Quando Christopher decide di impegnarsi a costruire una relazione con il figlio, presenta una petizione in tribunale per ottenere il diritto di visitarlo più frequentemente e avere un maggior controllo sulla relazione. Riesce a ottenere ciò che desidera grazie a questa petizione, perché Brianna, in quel periodo, sta cercando di superare un problema con l'atto di sostanze. che si portava avanti da tempo. Aveva subito molti traumi da ragazzina e si era buttata sulle sostanze per attenuare quel dolore che la accompagnava costantemente, sviluppando così una dipendenza. Dopo aver vinto la causa, Christopher inizia a trascorrere alcune notti insieme a Corey, a partire dall'agosto del 2019. All'inizio del 2020 gli viene assegnata la custodia residenziale. Nel giro di un anno, Christopher passa dal non conoscere suo figlio a essere il genitore principale, il che significa che Corey deve trasferirsi da suo padre. A questo punto i due si trasferiscono a casa dei genitori dell'uomo. Corey quindi conosce anche i suoi nonni paterni, che sono davvero emozionati di averlo lì, e lo adorano fin dal primo momento. Corey viene iscritto alla stessa scuola frequentata da Christopher e dei suoi fratelli quando erano piccoli. Il nonno lo aiuta con i compiti e passa molto tempo con lui, giocando e creando un legame speciale. Corey e Christopher vivono con i nonni fino alla fine di agosto 2020, dopodiché si trasferiscono in un complesso di appartamenti chiamato Atlantic Heights Apartment Complex, a Barnagate, nel New Jersey. Scelgono quella zona perché lo zio di Christopher abita lì vicino, e perché Christopher crede che la zona abbia un buon sistema scolastico, e che sia un bel posto per crescere un bambino. Vi faccio notare che questa casa dista un'ora da quella di Brianna, e per lei gestire questa distanza non è così facile. Non sopporta l'idea di vivere lontana da suo figlio, così decide di fare tutto il necessario per riaverlo con sé. Si disintossica e presenta un'istanza al tribunale per ottenere nuovamente la custodia di Corey, riuscendo a ottenere di nuovo l'affidamento congiunto nell'ottobre del 2020. Nonostante Christopher continui ad essere il genitore principale, Brianna può finalmente passare del tempo da sola con suo figlio. Il 28 marzo 2021 Brianna si reca al dipartimento di polizia di Barnagate e chiede che venga fatto un controllo. È preoccupata per suo figlio, perché ha notato che spesso torna a casa con dei lividi, e vuole che qualcuno lo visiti. Gli parli e si assicuri che stia bene. Due agenti di polizia si dirigono quindi all'appartamento che Corey condivide con suo padre. Una volta entrati, vedono il bambino e si rendono conto che ha dei lividi sul corpo, ma non ritengono che ci sia nulla di cui preoccuparsi. Secondo il loro parere, l'atmosfera è tranquilla e non ci sono segnali di tensione in casa. Sembra che tra Corey e suo padre tutto sia a posto, così gli agenti se ne vanno. Quando Brianna viene informata, trova che le spiegazioni degli agenti non siano accettabili. E lo credo anch'io. Il 31 marzo si reca quindi in tribunale e deposita un'istanza d'emergenza per ottenere la custodia del suo bambino. Ciò nonostante, il giorno seguente apprende che la richiesta è stata respinta. Il tribunale stabilisce che per ottenere la custodia deve sottoporre Corey a una valutazione per sospetto abuso minore entro i successivi sette giorni. Il primo aprile, Brianna passa la giornata con Corey e decide di portarlo al pronto soccorso per vedere se c'è qualcosa che non va. I medici però la indirizzano a un altro ospedale più distante. Brianna a questo punto esita. Non sa se è il caso di portarlo all'altro ospedale perché teme che il tragitto richieda troppo tempo e che non riuscirebbe a riportare Corey da suo padre in orario. Questo sarebbe un problema perché in passato quando Christopher le aveva chiesto di riportarle Corey a un'ora precisa e lei aveva tardato lui l'aveva amminacciata. Se l'avesse di nuovo riportato in ritardo le avrebbe impedito di vedere il bambino. Brianna a quel punto gli manda un messaggio dicendogli che è in ospedale con Corey. Christopher le risponde con un semplice basta che me lo riporti domani mattina entro le nove. Brianna temendo di non riuscire a rispettare l'orario sceglie di portare Corey a un ospedale più vicino il Jersey Shore Medical Center per essere certa di riportarlo da suo padre in tempo. Brianna e Corey entrano nel primo ambulatorio e il medico chiama l'altro ospedale per confermare la disponibilità di un medico del pronto soccorso pediatrico. Il bambino viene così controllato dalla testa ai piedi e i medici rivelano la presenza di ematomi estesi. Contano ben 14 diversi lividi e graffi in diversi stadi di guarigione. L'ematoma peggiore è sullo sterno del bambino. Nonostante queste ferite, Corey viene dichiarato idoneo al rilascio poiché le analisi risultano nella norma e quindi non c'è motivo per trattenerlo. I medici indirizzano Brianna verso un team specializzato in abbandonati sui minori al fine di ottenere una valutazione approfondita. Nel frattempo il caso viene segnalato anche all'assistente sociale che segue Corey. La mattina del 2 settembre 2021 Brianna accompagna Corey da suo padre Christopher verso le 9 informandolo di aver fissato un appuntamento con un esperto di abbandonati sui minori. Purtroppo non sappiamo cosa sia accaduto esattamente tra Corey e suo padre quel giorno. Quello che sappiamo per certo è che alle 16 Christopher Gregor entra al Southern Ocean Medical Center portando con sé suo figlio. L'uomo non sembra preoccuparsi di attirare l'attenzione del personale dell'ospedale non pare avere nessuna urgenza. È solo quando un'infermiera gli si avvicina e dà un'occhiata a Corey che si rende conto della gravità della situazione. Christopher sta tenendo il bambino in braccio l'infermiera quindi non riesce a vedere bene il suo volto ma le gambe sembrano a penzoloni. L'infermiera si avvicina ulteriormente e nota che questo bambino sembra privo di controllo muscolare. Gli muove delicatamente la testa per poterlo vedere in faccia e nota che gli occhi stanno roteando all'indietro. Comprendendo la gravità della situazione il personale lo fa immediatamente entrare in una stanza e, appena sdraiato sul letto, gli attaccano al polso un cardiofrequenzimetro. Notano un grosso livido sul petto. Nel frattempo Corey inizia ad avere delle convulsioni. Il suo cuore a volte perde i battiti. In alcuni momenti sembra che non riesca a respirare. Il bambino perde conoscenza ma Christopher non sembra preoccuparsene. Una delle infermiere presenti afferma che il comportamento di Christopher sembrava completamente distaccato quasi privo di emozioni. La sua freddezza diventa evidente a chiunque si trovi nel pronto soccorso in quel momento. Sta abbandonando suo figlio lasciandolo da solo in un momento critico. Ma non è finita qui perché quest'uomo fa anche in modo che Brianna, la madre di Corey non possa essere presente in quei terribili momenti dicendo al personale dell'ospedale che la donna ha problemi con le sostanze e non dovrebbe stare lì. Ma in realtà le cose sono andate diversamente. Christopher rendendosi conto che doveva portare Corey all'ospedale aveva inviato un messaggio a Brianna per chiederle informazioni sull'assicurazione sanitaria del bambino. Nonostante sia Christopher il genitore principale è Brianna ad avere queste informazioni. La donna quando riceve questo messaggio va in panico. chiede come stia Corey e dove la stia portando ma Christopher si rifiuta di dirglielo. Nel frattempo i medici riescono a rianimare il bambino e lo portano d'urgenza a fare un attacco. Purtroppo però prima di iniziare l'esame il cuore di Corey si ferma nuovamente e questa volta non riescono a rianimarlo. Corey viene a mancare il 2 aprile 2021 alle 17.30 circondato solo dal personale medico dell'ospedale poiché suo padre l'aveva lasciato da solo nella stanza. Nel frattempo Brianna stava cercando disperatamente di capire dove si trovasse suo figlio telefonando a tutti gli ospedali vicini. Intorno alle 18 scopre che Corey è al Southern Ocean Medical Center. Si precipita verso la porta d'entrata di casa per uscire e recarsi sul posto desiderosa di accertarsi che Corey stesse bene ma si ritrova davanti la polizia che le dà una notizia devastante. Suo figlio è già morto. Brianna impreda il dolore e dice alla polizia non solo ha tolto la vita a Corey ma gli ha anche negato gli ultimi momenti con la sua famiglia. Anche i genitori di Christopher avevano provato ad andare a trovare Corey ma quando erano arrivati all'ospedale il bambino era già deceduto mentre Christopher se n'era già andato da circa 15 minuti. I genitori di Christopher appresa la notizia si preoccupano e tentano di contattarlo ripetutamente per dirgli di tornare a casa loro ma ad un certo punto l'uomo spegne il telefono e non lo riaccende per le successive 24 ore. Si ritiene che durante questo lasso di tempo Christopher abbia provato a scappare. Sebbene il suo telefono fosse spento gli investigatori sono in grado di affermare che stava guidando dal New Jersey verso la Pennsylvania. In seguito si è poi diretto a sud ovest arrivando a 45 minuti dal confine con il Texas probabilmente con l'intenzione di dirigersi in Messico. A un certo punto si ritiene che l'uomo abbia riacceso il telefono e abbia parlato con suo padre il quale sembrava averlo convinto a tornare indietro. Tuttavia invece di farlo prosegue verso il Tennessee. Viene fermato dalla polizia per eccesso di velocità ma per il momento non ci sono ancora delle accuse contro di lui quindi non viene arrestato. Durante l'interazione con la gente che sta registrando tutto con la sua bodycam Christopher in preda al panico gli dice che suo figlio è morto per colpa di Brianna dicendo esattamente queste parole se non avessi avuto una madre tossicodipendente lui sarebbe ancora vivo. A Christopher viene sequestrata la macchina e i suoi genitori si trovano costretti a noleggiare un'auto per convincerlo a tornare a casa. Rientra in New Jersey il giorno di Pasqua domenica 4 aprile tuttavia non viene arrestato per la sua fuga. Per capire perché Christopher non è stato arrestato subito bisogna fare un passo indietro. Il primo aprile quando Brianna aveva portato Corey in ospedale il dottore che lo aveva visitato aveva notato diversi lividi estesi uno sul petto uno sul braccio e un altro sulla fronte. Aveva quindi chiesto al bambino cosa fosse successo. Corey aveva risposto al dottore che se gli era fatti giocando a calcio ma sua madre sapeva che non era vero perché lei era sempre presente agli allenamenti del figlio non aveva notato nulla di strano e quei lividi li aveva già visti prima dell'allenamento. Il dottore intuendo che Corey non stesse dicendo tutta la verità lo aveva incalzato e a questo punto il bambino gli aveva spiegato che suo padre lo obbligava a correre molto velocemente sul tapirulan perché secondo lui era troppo grasso per essere un bambino di sei anni. Corey aveva detto di essere caduto dal tapirulan procurandosi quei lividi. Facciamo quindi un altro passo indietro e torniamo al 20 marzo. Corey era stato con sua madre che lo aveva portato a una festa di famiglia in Pennsylvania dove aveva trascorso una bellissima giornata. Brianna era tornata in New Jersey per riportare il bambino a Christopher ma visto che era arrivata un'ora in ritardo si era ritrovata ad affrontare la rabbia dell'uomo. Le aveva detto che gli stava rovinando la giornata e le aveva ordinato di portare immediatamente il bambino in palestra dato che lui si trovava lì. In quella palestra però era presente una telecamera che mostra come Christopher avesse obbligato suo figlio a salire sul tapirulan e correre. Per qualche minuto il bambino aveva corso da solo mentre suo padre si era allontanato per parlare al telefono. Al termine della chiamata Christopher era tornato vicino al tapirulan e aveva iniziato ad aumentare la velocità costringendo Corey a correre sempre più rapidamente. Ma Corey quella velocità non riusciva a gestirla aveva appena sei anni era ancora troppo piccolo quindi continuava a cadere. Ogni volta Christopher lo prendeva in braccio e lo rimetteva con rabbia sul tapirulan costringendolo a riprendere la corsa anche se Corey cercava di ripartire finiva sempre per cadere. Questa scena si era ripetuta per circa sei volte fino a quando Christopher si era innervosito così tanto che aveva preso in braccio Corey e gli aveva morso la testa. Purtroppo questa non era la prima volta che succedeva una cosa del genere. Dopo aver trascorso Halloween da suo padre nel 2019 Corey era tornato a casa con quella che sembrava un'ustione da sfregamento che dal viso si estendeva fino alle braccia e alle gambe insieme a quello che sembrava essere il segno di uno schiaffo sul viso. Vedendo questi segni Brianna aveva chiesto a suo figlio cosa gli fosse successo e di nuovo Corey gli aveva detto che secondo suo padre era troppo grasso e per questo motivo l'aveva fatto correre sul tapirulan. Durante la corsa era caduto procurandosi quelle ustioni da sfregamento. Preoccupata per la sicurezza del figlio Brianna si era rivolta al DCPP il New Jersey Division of Child Protection and Permanency ovvero l'agenzia statale incaricata di proteggere i diritti e la sicurezza dei bambini. Aveva spiegato l'accaduto e gli aveva sollecitati a fare qualcosa riguardo ricordando che episodi simili erano già capitati in passato e che aveva già contattato l'agenzia più volte. E in effetti Brianna li aveva chiamati numerose volte dopo questo accadimento implorandoli di fare qualcosa per tenere al sicuro il suo unico figlio. Secondo quanto riportato l'agenzia statale aveva parlato con Christopher riguardo all'accaduto. Christopher aveva ammesso di aver fatto correre Corey sul tapirulan e che il bambino era caduto quindi gli avevano semplicemente detto di non farlo più. Chiaramente Christopher non li aveva ascoltati e non era neppure la prima volta che Corey si feriva mentre passava del tempo con suo padre. Prima della sua morte Brianna aveva iniziato a documentare tutte le ferite che vedeva sul bambino scattando foto che poi mostrava a diverse persone chiedendo se fosse normale che un bambino di sei anni presentasse quel genere di lesioni. Corey tornava spesso a casa pieno di lividi tagli sanguinanti e segni di morsi. Secondo Brianna e Rebecca la nonna di Corey il bambino diceva sempre che quelle ferite gliele aveva inferte suo padre aggiungendo che era spaventato da lui perché lo picchiava per questo motivo non voleva più stare con lui. Brianna continuava a segnalare queste informazioni al DCPP spiegando che Corey non voleva più andare da suo padre piangeva si nascondeva negli armadi e continuava a ripetere che non voleva andare da lui. In una delle sue segnalazioni Brianna ha detto queste esatte parole al DCPP la prima volta che è andato a trovare suo padre è tornato a casa con un labbro rotto sono andata alla stazione di polizia loro hanno chiamato al DCPP e Chris ha detto che gli aveva dato accidentalmente un calcio in faccia mentre stava per calciare un pallone da calcio eppure nonostante le ferite nonostante il terrore di Corey il caso era stato chiuso Brianna non sapeva più cosa fare suo figlio stava subendo chiaramente dei maltrattamenti e nessuno sembrava disposto o in grado di aiutarla a fare qualcosa al riguardo la donna aveva quindi deciso che doveva fare tutto il possibile per proteggere i Corey doveva prendere in mano la situazione così aveva provato a mantenere un rapporto civile con Christopher pur sapendo che fosse un pessimo padre era riuscita a convincerlo a permetterle di passare la notte col bambino a casa sua ma lui aveva accettato solo a una condizione Brianna doveva riprendere ad andare a letto con lui la donna aveva accettato la proposta di Christopher e per un po' era riuscita anche a gestire la situazione ma poi era arrivato un momento in cui non era più sostenibile aveva quindi smesso di avere rapporti con Christopher e aveva ripreso a chiamare il DCPP implorandoli di aiutarla tra settembre 2019 e aprile 2021 Brianna aveva segnalato più di 100 volte potenziali abusi nei confronti di suo figlio al DCPP ma nessuna delle 100 denunce era stata presa seriamente non era mai stata fatta nemmeno una visita a domicilio per vedere in che stato di salute fosse Corey a causa dell'alto turnover ecco perché il caso è passato inosservato Corey purtroppo non c'è più e molte delle persone che lo conoscevano sono convinte che suo padre sia il responsabile Christopher però è rimasto un uomo libero non è stato arrestato subito almeno fino al 9 luglio su consiglio del suo avvocato Christopher il 9 luglio si consegna alla polizia dopo che è stato emesso un ordine di arresto a suo carico per aver messo in pericolo il benessere di un bambino viene trattenuto per un po' senza cauzione ma alla fine viene rilasciato in attesa della sua udienza prevista per settembre del 2021 durante l'udienza viene annunciato nuovamente che sarebbe stato rilasciato il giudice durante l'udienza fa riferimento al video in cui Corey è sul tapirulano definendolo spregevole e offensivo ma alla fine dichiara di essere vincolato dalla legge e che deve rilasciare Christopher Brianna è presente insieme a un gruppo di persone che erano venute a sapere del caso di Corey tramite la pagina facebook giustizia per Corey creata dalla stessa Brianna Christopher ovviamente non era molto felice della creazione di questa pagina aveva anche minacciato azioni legali ma Brianna non si era fermata anzi aveva iniziato a riferirsi a lui con le iniziali del suo nome e cognome e aveva continuato a mostrare foto messaggi e a pubblicare aggiornamenti sul caso inoltre Brianna prova anche a reclutare nuove persone che si uniscano alla lotta per ottenere giustizia per Corey è grazie a lei se il caso di suo figlio ha iniziato a ricevere così tanta attenzione mediatica al punto che quando inizia il processo viene mandato in onda su Court TV queste persone che fanno parte della pagina Facebook giustizia per Corey si presentano fuori dal tribunale il giorno in cui Christopher dovrebbe essere rilasciato portando con sé diversi cartelli di protesta tutti contro la sua scarcerazione fortunatamente Christopher non prova a fare del male a Brianna e mentre è in attesa di processo la pagina Facebook dedicata a Corey continua a crescere e con essa crescono anche le tensioni specialmente tra le due famiglie non sono mai state particolarmente legate ma ora lo sono ancora meno tanto che organizzano due funerali separati per il bambino padre di Christopher provà anche a sporgere denuncia contro Brianna accusandola di far parte di un gruppo di persone che erano andate a casa sua a lanciare uova e pesci contro le finestre credono anche che le persone all'interno del gruppo su Facebook Brianna compresa fossero andate nei pressi della loro abitazione per affliggere dei manifesti che indicavano Christopher come un assassino in seguito a ciò avevano iniziato a ricevere minacce talmente gravi che avevano dovuto lasciare la loro casa Brianna però afferma che non è andata affatto così lei aveva affisso quei manifesti ovunque non aveva scritto che cercava informazioni sulla morte di Corey senza mai nominare Christopher e tantomeno accusandolo di essere un assassino la donna sostiene che non possono mentire e che è pronta a tutto aveva anche fotografato la madre e la sorella di Christopher mentre andavano in giro a strappare quei manifesti la madre di Corey stava facendo veramente tutto il possibile per ottenere quelle informazioni credeva con tutto il cuore che Christopher fosse responsabile e l'avrebbe dimostrato con ogni mezzo a sua disposizione il tempo passa arriva Natale e Brianna decide di comprare dei giocattoli da donare alla scuola che frequentava Corey in sua memoria sempre più persone seguono l'esempio di Brianna e alla fine vengono distribuiti più di 100 giocattoli a tutti i bambini della scuola arriviamo al 3 marzo 2022 quando l'ufficio del procuratore della Contea di Ocean riceve finalmente il rapporto dell'esame autoptico fatto sul corpo di Corey la causa della morte viene indicata come omicidio viene affermato dal patologo forense che Corey presentava sul corpo delle contusioni in vari stadi di guarigione abrasioni sulla schiena sulle gambe e sulle braccia è morto a causa delle ferite da impatto al petto e all'addome aveva anche una contusione al ginocchio e una lacerazione e una contusione al fegato e al cuore il 9 marzo Christopher Gregor viene arrestato di nuovo non solo per aver messo in pericolo il benessere del figlio ma anche per l'omicidio di suo figlio mentre in prigione in attesa di processo gli viene offerto un patteggiamento se si fosse dichiarato colpevole sarebbe stato condannato a 30 anni di carcere Christopher però rifiuta e si dichiara non colpevole Brianna è perplessa davvero quest'uomo vuole andare in tribunale con tutte le prove che ha l'accusa compreso il video in cui obbliga il suo figlio a correre sul tapirulan facendolo cadere diverse volte la donna non vede l'ora che la giuria ascolti tutte le prove che l'accusa ha raccolto contro di lui durante i primi giorni del processo ci sono ancora le restrizioni per la pandemia quindi Christopher non è presente fisicamente in tribunale ma si collega tramite una videochiamata prima che inizi il dibattimento l'avvocato di Christopher cerca di separare il processo per aver messo in pericolo il benessere di un bambino e il processo per omicidio colposo aggravato questo perché sostiene che il video sul tapirulan non sia collegato all'accusa di omicidio ma soltanto all'accusa di messa in pericolo l'avvocato inoltre cerca anche di far archiviare il caso per insufficienza di prove ma il giudice fortunatamente rispinge entrambe le richieste tuttavia la difesa ottiene un piccolo successo il giudice decide che non sarà possibile presentare le accuse di abuso che Brianna aveva pubblicato nel gruppo su facebook quando il processo inizia l'avvocato di Christopher avverte già i membri della giuria che quando vedranno il video del tapirulan rimarranno inorriditi ma seppur orribile l'accaduto non ha niente a che fare con la morte di Corey la difesa annuncia anche che chiamerà a testimoniare un medico il quale affermerà che Corey è morto per un'infezione che si stava diffondendo rapidamente e non per le ferite riportate cadendo ripetutamente sul tapirulan ma il video è difficile da ignorare chiunque lo vede prova istantaneamente un forte disprezzo per Christopher il procuratore generale afferma che Christopher è indifendibile e prevede che la giuria emetterà un verdetto di colpevolezza nel giro di pochi minuti aggiunge anche che c'è un posto all'inferno per persone come Christopher l'accusa sostiene che la giuria non avrà dubbi nel concludere che Christopher è responsabile dell'abuso e dell'omicidio del proprio figlio e che le prove raccolte ne dimostreranno la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio perché cito i bambini di sei anni non muoiono nel corso di una giornata lavorativa nemmeno Corey Micciolo la difesa però come annunciato chiamerà a testimoniare il patologo forense Michael Baden il quale si dice convinto che Corey sia morto di sepsi causata da una polmonite il medico dell'accusa uno specialista in malattie infettive pediatriche respinge queste affermazioni e dichiara che Corey è morto a causa delle ferite da impatto viene poi sottolineato che Christopher si trovava in ospedale quando Corey è morto ma quando suo figlio è venuto a mancare lui è praticamente scappato dall'ospedale il suo avvocato però interviene affermando che Christopher non stava tentando di fuggire ma che voleva solo fare un giro per prendersi una pausa nessuno può davvero prevedere come una persona reagisca a un trauma sostiene l'avvocato e Christopher in quel momento aveva sentito il bisogno di allontanarsi il giudice però risponde all'avvocato difensore con queste esatte parole sono il primo ad ammettere che ci sono molti modi per affrontare il dolore avrebbe potuto piangere o andare dalla madre del bambino anche se con lei aveva una relazione conflittuale avrebbe potuto andare dalla sua famiglia per cercare conforto non scappare ma le prove non finiscono qui l'accusa presenta anche le ricerche effettuate da Christopher su internet sia prima che dopo la morte di Corey quando era in fuga aveva cercato delle parole chiave relative alle ferite di Corey come emorragie interne prima di portarlo in ospedale aveva cercato perdita di coscienza sonnolenza e nausea e dopo la morte del figlio aveva cercato su google quanto tempo dopo l'esecuzione dell'autopsia scattano gli arresti poco più di un'ora dopo aver lasciato Corey senza vita in ospedale Christopher aveva cercato di capire se il suo telefono potesse essere rintracciato mentre era in modalità aerea dopodiché aveva fatto un'altra ricerca per capire se sarebbero stati in grado di rintracciare la sua macchina e meno male che non stava tentando di scappare ma parliamo più approfonditamente del telefono di Christopher perché a questo punto diventa un elemento cruciale nell'indagine la polizia scopre che l'imputato aveva provato a cancellare diverse informazioni quando gli investigatori avevano confrontato il contenuto del telefono di Brianna con quello del telefono di Christopher avevano notato che mancavano più di 3000 messaggi che i due si erano scambiati quindi Christopher li aveva eliminati ma non è finita qui emerge un dettaglio importante il 23 marzo un'insegnante di Corey rientrata dopo un'assenza di qualche giorno aveva notato che il bambino aveva un livido sulla fronte e preoccupata aveva chiamato il DCPP per segnalare la situazione nuovamente il giorno successivo Christopher era andato a prendere Corey a scuola e aveva cercato su Google quanto tempo ci vuole perché i segni rossi si trasformino in lividi vedete tutti questi dettagli presi singolarmente potrebbero sembrare insignificanti ma messi insieme dipingono un quadro inquietante e abbastanza esplicito la difesa cerca di sviare l'attenzione affermando che l'accusa sta definendo Christopher come un uomo abusivo ma questo non significa che abbia ucciso suo figlio il padre di Christopher nonché nonno di Corey testimonia in favore del figlio dicendo che Corey stava bene con il padre che gli ingarantiva una bella vita la madre di Christopher invece non può andare alla sbarra perché si è scoperto che durante una telefonata fatta dalla prigione il figlio l'aveva istruita su cosa dire esattamente durante il processo questo ha fatto perdere alla donna la possibilità di testimoniare in sua difesa anche Brianna viene chiamata a testimoniare le fanno domande sulla sua dipendenza ma lei sottolinea che in quel momento è pulita ed è disposta a sottoporsi a un test antidroga per dimostrarlo ammette di aver avuto delle ricadute anche il giorno in cui Corey è morto stava attraversando un periodo molto difficile era certa che suo figlio stesse subendo degli abusi tanto che se ricordate era andata in tribunale cercando di ottenere la custodia d'urgenza che però le era stata negata le era stato chiesto di far fare prima una valutazione di abuso sui minori per poterla ottenere allora l'aveva portato di corse in ospedale per tentare di ottenere questa valutazione stava facendo veramente tutto il possibile per proteggere suo figlio Rebecca la madre di Brianna è indignata e alla fine dell'udienza dirà mi sento come se l'avvocato dell'imputato avesse messo me e tutta la mia famiglia a processo siamo le vittime ma sta cercando di farci passare per criminali il processo a questo punto si concentra molto sul video del tapirulano l'avvocato della difesa afferma che sì quel video è pessimo lo sa ma cerca di minimizzarlo sostenendo che la situazione non è così grave come l'accusa vuol far credere la difesa rispinge anche l'accusa che Christopher avrebbe morso la testa di Corey affermando che non ci sono prove tangibili a supporto di questa affermazione guardate la prova ve la faccio vedere sullo schermo ditemi voi se non è palese che quest'uomo stia mordendo suo figlio sulla testa l'avvocato difensore aggiunge che dopo l'incidente sul tapirulan Corey stava bene infatti due giorni dopo il bambino era felice e di buon umore stava guardando delle case insieme a suo padre e ai nonni segno che voleva andare a vivere con suo padre avevano persino programmato di prendere un cagnolino è vero Corey aveva dei lividi dopo quell'incidente ma l'avvocato sottolinea che spesso se li procurava anche giocando a calcio quindi secondo la difesa non è a causa di questo incidente che Corey è morto l'accusa prende il video dell'incidente sul tapirulan e lo frammenta mostrando alla giuria le parti più significative in una scena ad esempio si vede Christopher alzare due dita verso suo figlio e l'accusa interpreta questo gesto come un segno collegato alle due ore di ritardo di Brianna quando stava tornando dalla Pennsylvania viene sostenuto quindi che questo incidente sul tapirulan fosse il modo di Christopher di punire Corey per il ritardo che gli ha fatto fare sua madre e viene ipotizzato che Corey venisse spesso punito anche con degli accusi quando lui o sua madre facevano delle cose che a Christopher non piacevano questo è importante perché il giorno prima che Corey morisse sua madre l'aveva portato al pronto soccorso per valutare se suo padre lo stesse maltrattando e Christopher lo sapeva bene forse è proprio per questo che aveva deciso di punire suo figlio il giorno successivo quando Brianna lo aveva accompagnato da lui la giuria a questo punto si ritira per deliberare e in poco tempo ritorna con il verdetto Christopher viene giudicato colpevole dell'accusa di messa in pericolo di un minore non colpevole per l'accusa di omicidio ma colpevole per l'accusa di omicidio colposo aggravato Brianna scoppia in lacrime mentre Christopher sembra scioccato credeva davvero di farla franca arriva l'udienza per la sentenza la famiglia di Brianna dichiara che Christopher non merita alcuna pietà e dovrebbe ricevere il massimo della pena non dovrebbe avere una seconda possibilità perché Cory non l'ha avuta Cory è morto anche Christopher prende la parola e ammette che il video del tapirulan è orribile e ingiustificabile ma insiste nel sostenere che non ha nulla a che vedere con la morte di Cory si rammarica solo di non averlo portato in ospedale prima quando ha notato che era assonnato e confuso termina la sua dichiarazione dicendo mi dispiace che abbiamo perso Cory so che ci mancherà per il resto delle nostre vite ovunque tu sia Cory voglio dirti che sono orgoglioso di te il pubblico ministero chiede al giudice che Christopher riceva la pena massima di dieci anni per l'accusa di messa in pericolo del benessere di un bambino e 30 anni per l'accusa di omicidio colposo l'accusa sottolinea che Christopher merita una lunga pena ricordando che aveva istruito sua madre su cosa dire quando l'avrebbero chiamata a testimoniare al processo che aveva tentato la fuga subito dopo la morte di Cory e che era chiaro come il sole dal video del tapirulan che avesse problemi seri di rabbia repressa che non riusciva a controllare se fosse stato rilasciato troppo presto sarebbe stato un pericolo per la comunità Christopher ha persino il coraggio di dire al giudice che in quel video stava insegnando un'importante lezione di vita a suo figlio possiamo cadere mille volte l'importante è rialzarsi sempre più forte di prima ma il giudice in pratica gli ride in faccia sostenendo che non stava insegnando proprio nessuna lezione a suo figlio ma lo stava maltrattando nel peggiore dei modi dice che un'immagine può valere mille parole ma quel video di parole ne vale 10.000 alla fine il giudice condanna Christopher a un totale di 25 anni di carcere 5 anni per l'accusa di aver messo in pericolo il benessere di un bambino e 20 anni per l'accusa di omicidio colposo non gli viene inflitta la pena massima e questo provoca rabbia tra molte persone ma il giudice spiega che per questo caso la massima pena non era legalmente sostenibile l'uomo dovrà scontare interamente i 5 anni e l'85% della sua condanna a 20 anni prima di poter beneficiare della libertà vigilata una volta rilasciato dovrà passare altri 5 anni con la cavigliera elettronica e sarà soggetto a supervisione Christopher dichiara di non essere sorpreso dal verdetto e afferma che questo è solo il primo passo della lunga battaglia che inizierà per ottenere il rilascio dice di avere intenzione di fare ricorso con il suo avvocato anche se fino a oggi non ha ancora presentato alcun appello attualmente è in corso una causa legale tra Brianna e il DCPP l'avvocato della donna afferma pubblicamente che il sistema di protezione dei minori contro ha fallito miseramente a causa di una cattiva gestione il caso non coinvolge solo il DCPP come ente ma vengono nominati anche alcuni dipendenti specifici accusati di non essere riusciti a proteggere Cori nonostante le numerose segnalazioni di avvocato presentate nel corso degli anni per ottenere giustizia per Cori non basta mettere Christopher dietro le sbarre con questa battaglia stanno anche cercando di assicurarsi che situazioni simili non accadano più a distanza di 20 mesi dalla morte di Cori sua madre riceve una telefonata dal DCPP che in pratica le dà ragione le dicono che hanno terminato di esaminare il caso e hanno stabilito che suo figlio Cori stava subendo abbono da parte di Christopher Brianna sul momento pensa sia uno scherzo di cattivo gusto ma pochi giorni dopo riceve una lettera ufficiale del DCPP in cui si afferma che le accuse di abbono sui minori sono state confermate a causa degli accadimenti del marzo 2021 e del 2 aprile 2021 vi ricordo che il 2 aprile è il giorno in cui Cori è venuto a mancare questo vuol dire che il DCPP è stato estremamente lento ma soprattutto che non si è reso conto che Cori non c'è più non è più possibile proteggerlo è troppo tardi si ipotizza anche che il DCPP abbia considerato Brianna inaffidabile e che quindi non avesse considerato le sue segnalazioni per un semplice pregiudizio a causa dei suoi trascorsi con la dipendenza da sostanze Brianna non veniva presa sul serio mentre Christopher era considerato più credibile anche se le prove erano evidenti la storia di Cori ha sollevato due importanti questioni a livello globale la nostra consapevolezza del pericolo imminente e degli avanti sui minori e la discriminazione nei confronti dei genitori emarginati nella nostra società attuale la famiglia di Cori in particolare sua madre ha affermato di non credere di potersi mai mettere l'anima in pace e accettare il destino che ha colpito il suo figlio ma sta cercando di fare dei passi avanti nella giusta direzione trasformando questa tragedia in qualcosa di positivo la donna si è rivolta ai legislatori del New Jersey nel tentativo di far approvare la legge di Cori questa legge stabilirebbe che in presenza di accuse di accuso verso un minore il bambino deve essere allontanato immediatamente dalla situazione per essere inserito in un posto sicuro e neutrale mentre le accuse vengono esaminate io onestamente spero che questa legge venga approvata presto Brianna visita ogni giorno la tomba di Cori che è sepolto accanto alla sua bisnonna aspetta con impazienza di vedere le farfalle monarca affermando che rappresentano suo figlio le vede molto spesso da quando Cori non c'è più e ogni volta che ne vede una sente che quello è il suo bel bambino che le fa visita per salutarla per questo motivo ha deciso di tatuarsi una farfalla monarca viene organizzata anche una liberazione di farfalle monarca in onore di Cori e credo sia una commemorazione bellissima un bambino che avrà per sempre sei anni che fa visita alla sua mamma prendendo la forma di una farfalla arriviamo alle conclusioni finali storie come questa sono terribili perché è il sistema ad aver fallito vi ricordo che Brianna ha denunciato la situazione di suo figlio per più di cento volte eppure nessuno l'ha ascoltata nessuno l'ha aiutata nessuno le ha teso una mano inoltre mi chiedo in che modo Christopher vedesse suo figlio perché Cori non era affatto grasso penso piuttosto che sottoponesse suo figlio a quegli allenamenti estenuanti per punirlo del ritardo causato dalla madre le azioni che ha compiuto Christopher dopo la morte di suo figlio mi fanno pensare che non fosse affatto dispiaciuto questa opinione si era forzata quando l'ho visto parlare al processo si talvolta pianto ma mai per Cori Christopher ha pianto sempre e solo per se stesso spero che passi tutti e 25 gli anni della sua condanna in carcere che a mio avviso sono davvero troppo pochi ha ucciso un bambino di 6 anni il suo unico figlio per punirlo di una cosa di cui non aveva neanche colpa Cori non aveva potere sui ritardi di sua madre tuttavia con questo non voglio dire che la colpa sia di Brianna perché ha accompagnato Cori in ritardo da suo padre qui l'unico colpevole è Christopher punto spero inoltre che questo essere non riesca mai a ottenere una diminuzione della pena in un eventuale appello credo anche che sia giunto il momento di ritenere responsabili anche le istituzioni che puntualmente falliscono nel loro lavoro il DCPP secondo me deve essere ritenuto in parte non del tutto chiaramente responsabile per ciò che è successo a Cori ma voi che ne pensate pensate anche voi come me che Christopher meritasse una pena più lunga e che opinioni avete sul DCPP chi ha gestito il caso così male merita di essere ritenuto in parte responsabile della morte di Cori Micciolo un bambino di appena sei anni io sono curiosa di sapere cosa ne pensate voi di questo caso e cosa soprattutto ne pensate delle domande che vi ho appena posto e quindi fatemi sapere insomma quello che volete qui sotto nei commenti io leggo sempre tutti i vostri commenti e sono molto interessata alla vostra opinione in un frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.